Ciao, abbiamo visto nel video tutorial precedente come mettere in vendita un prodotto e creare uno shop con Blooming. Oggi vediamo quali sono i metodi di pagamento e come funziona Paypal. Per cominciare a vendere con Blooming bisogna selezionare almeno una modalità di pagamento. E quelle che sono disponibili attualmente sono pagamento alla consegna, cioè in contrassegno, Paypal, vaglia postale, assegno bancario, bonifico bancario. Vediamo come funziona Paypal. È un sistema esterno a Blooming e permette di pagare ed essere pagati online in modo semplice e sicuro. Consente di registrare le proprie informazioni bancarie o della carta di credito una volta soltanto, dopodiché si potranno usare direttamente le credenziali Paypal. I siti sui quali avviene la transazione così si scambieranno i dati in modalità protetta senza diffondere in altro modo informazioni delicate. L'account business è gratuito, però naturalmente ha delle percentuali sulle vendite, quindi andatevi a vedere il link sulle tariffe Paypal per capire bene quali sono i costi di gestione. Adesso vediamo come sincronizzare Paypal e Blooming. Si tratta di un metodo efficace per ricevere pagamenti, che compra un'esperienza di acquisto più semplice e con pochi clic viene effettuato il pagamento direttamente al venditore. restando all'interno della procedura di Blooming. Questo evita di perdersi andando manualmente su diversi siti e toglie anche il fastidio di andare in banco in posta. Quindi a chi vende con questo metodo assicura di ricevere il pagamento prima ancora di dover spedire l'oggetto. Si chiama Paypal Express Checkout. Quindi per attivare questa funzione basta avere un conto Paypal Premier, cioè per privati, senza partita IVA, oppure business per aziende con la partita IVA. Per usarlo con Blooming si dovrà poi inserire la propria e-mail oppure se non si effettua la procedura per validare l'account Blooming, questa verrà richiesta da Paypal al primordine ricevuto attraverso Blooming. Potete vedere qui sotto tutte le informazioni relative a Paypal. Bene, una volta che avete scelto il vostro account, cioè quello per le aziende con la partita IVA, oppure per privati, Premier, potete registrarvi e attivare il proprio conto per i pagamenti Express. Bene, una volta effettuato il login su Paypal, basta cliccare questo link e selezionare il checkbox come nella schermata qui sotto e alla fine premere Invia. Quindi selezionare il tuo livello di accesso, pagamento diretto, pagamento Express, API di reportistica e back office, API di autorizzazione e liquidazione, infine il pulsante Invia. Nella schermata successiva si dovrà confermare cliccando sul pulsante Autorizza. Poi resta un'ultima cosa da fare. Nella schermata successiva bisogna cliccare sul pulsante Modifica e quindi attivare con la spunta il checkbox Manage Pending Transaction Status e cliccare su Invia. Basta, finito. D'ora in poi si riceveranno tutti i pagamenti in modo automatico sul conto Paypal. Bene, a questo punto ti consiglio di controllare bene anche i profili di spedizione, sulla pagina sempre help.blomming.com, italiano i profili di spedizione. Puoi vedere come puoi aggiungere velocemente i costi di imballaggio, la consegna. Quindi si possono definire diversi costi standard e scegliere velocemente quale associare quando si crea un nuovo prodotto. I profili preimpostati possono comunque essere modificati sulla pagina del singolo prodotto. Vediamo come funziona e a cosa servono. Di base il funzionamento è semplicissimo. Crea un profilo per il tuo metodo di spedizione preferito, ne indichi il costo e lo selezioni quando crei la pagina di un nuovo prodotto. Il prezzo finale per il compratore sarà quindi la somma del prezzo del prodotto più il costo di spedizione. Puoi creare quanti profili di spedizione vuoi, in modo da definire costi diversi per destinazione, tipo di corriere, dimensioni del pacco, ecc. Il sistema calcolerà automaticamente il risultato finale, come nei casi che puoi visualizzare qui sotto.